Sono nelle vicinanze di Covent Garden e questo che vedete all'angolo è Peyton & Barn, che è il tempio del tè all'inglese, per fare l'afternoon tea oppure per prendere un dolcetto. Questo è il posto giusto. Se vi trovate dalle parti di Covent Garden ricordatevi di questo posto. Vi faccio vedere un po' le vetrine, vi faccio una carrerata su quello che hanno e vi ricordo che loro sono soprattutto famosi per le marmellate, per le conserve, però anche per i tè. Per fare l'afternoon tea questo è il posto giusto. Guardate qua. Il pane. Questi sono le lemon cakes. Grazie a tutti. Queste sono le confetture, e guardate qua, le cheesecakes, le ingredienti, quei rotoli un vegetale, noi hanno maggiore춧io delle incidenti e due fa soltanto c'è bene io lo faccio